DELO DELISI! No perché si... No raga ma che diamine! Marci cosa è successo? Non lo so è tutto stranissimo! Burroni bentornati su Marci Games Oggi nuovo video di GTA V Siamo nel primo video del torneo delle gare 12 gare che saranno spalmate in 4 video ragazzi Sarà veramente un torneo stupendo Se volete supportarci lasciateci un mi piace 2000 mi piace Nuovo video insieme a Steph Fere e Marco E siccome molti di voi guardano i video e non sono iscritti Iscrivetevi anche al canale Nuovo inizio di torneo di gare GTA V Raga lo sapete come funziona? Torneo! Insulti fine Oggi Steph Prima di iniziare la rec ha detto che vincerà chi insulta più gli altri Quindi vincerò io No facciamo che chi butta di più giù gli altri No! Chi era giallo? Io Nome e cognome Marciano Mosca Esplodi! Sto per dire una cosa che non ho mai detto Ma non l'abbiamo già fatta questa gara No! Beh non ti inventare queste cose Ma è sempre così Ho sempre la sensazione di averle già fatte raga Allora io sono sordo Però mi sembra di sentire il rumore di un'ambulanza C'è davvero? È vero è vero! Ragazzi! No perché ho il dubbio di sentire cose che non esistono No ragazzi ha ragione Fere Me la ricordo questa qua No! Vero! Mi dice qualcosa No! Spero che te la ricordi State mentendo No! Ragazzi Io ho visto Fere Ho superato Fere No non mi hai visto Marco Un giro incredibile Oddio! Mi hai visto Marco! Mi hai visto Marco Taglialo! Ti sono passato dentro Ho visto Comunque c'era scritto ragazzi che il giro Cioè chi ha finito il miglior tempo è stato 5 minuti è stato Entrò oggi? Scusate Marci comunque con le tue parole eh Tranquillo Ma ve l'ho detto Ci vogliono 5 minuti per finire la gara Sì bravissimo Allora Lo stai buttando già adesso? No Marco Sto sbattendoci Marci Aia No lasciami stare Dai che adesso non ce la facciamo tutte e due Sì che ce la facciamo Ma cos'è sta roba? Io l'ho già fatta questa gara raga Ma la ricordo dunque Sì sì Fere Fere sei una bugiarda Ha ragione Fere Nike Fere ma perché ti rivalti sempre? Perché non so volare! Non so vedere Fere se tu sei più avanti? Perché siamo dietro di te Perché ogni cosa che Mark mi critica qualcosa e cado giù dalla pista? Non lo chiedo Fere No è sempre così Mark Io ce l'ho con te oggi Come fai ad essere dietro? Mi sono risentri se andiamo d'accordo ma oggi no Non sto capendo Fere giovane Non lo so Stef Ti stiamo facendo un piaggione troppo in mezzo Cosa è sta storia? Stef non so che dirti Stef parla da solo Sei sordo? Non senti nessuno No ma come faccio a essere il primo se non vi ho mai visti? Ah ma ragazzi siamo ancora nel giro in cui Stef è sordo Sì sono sordo Quindi ragazzi lui parla da solo Marco! Mamma mia! No non lo sento Non l'ha risposto Aiuto perché sto parlando a qualcuno che non sente? Non è vero Puzzarti Sono ribaltato ancora Nei giochi per famiglia Non ti mente Comunque ragione vera Che cosa? Che Stef è sordo Che abbiamo già fatta? Che questa gara qui l'abbiamo già fatta Non l'abbiamo Non è vero Allora secondo me ha preso un elenco partite che abbiamo già completato Guardate che cosa Vi immaginate sono le 12 dell'altra volta? Raga abbiamo fatto tutti i figli identici Io ve lo dico Ma il cubo! Ecco vedi che l'abbiamo già fatta Stef No! L'abbiamo già fatta! Cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto io ragazzi? No! Ma Stef ma sei un disastro! No allora non è un po' di là Un secondo prima aveva detto che non l'aveva già fatta eh C'è un falso E' tutta colpa di Stef Stef cos'hai da dire a tua discolpa? Il cubo! Stef? Cosa? Ok? È impossibile! Ma come si dovrebbe fare sto cubo? Non si fa E' come me avete colpo? No Mark! Volo, volo, volo Stef ce l'ho fatta! Raga che succede? Non lo so io sento rumori di ambulanza No aspetta però sta parte qua non me la ricordo eh Aia Io Stef non ti ho fatto nulla Sei tu che sei spawnato lì eh No Tu eri indietro No! No! C'è caduto! Porca miseria Porca Adesso cade anche Marco No! No! De Marco è passato È passato De Marco Ragazzi è passato il cane Il cane è primo Il cane è primo Mi dispiace Cosa facciamo in questi casi Fere? Lo uccidiamo No! Lo sopprimiamo Ma comunque Marco tu veramente hai una dot incredibile per essere spegioso Non ha fatto nulla e ha superato la fine Vabbè se voi sbagliate però che vuoi Mancano ancora 10 giga point Cioè il fatto è che non ho mai fatto questa gara E lui sì Quindi è un po' avvantaggiato per me Ma cosa? Ma l'abbiamo fatto insieme? Non l'abbiamo fatto insieme Ma cosa stai dicendo? Oddio sì! Qui ero morto Qui ero morto Sordo è diverso da Steph normale Steph sordo Quindi tu stai parlando con due persone Sì oggi sì Non li ammetto Pensavo che sarei guarito Invece non sono guarito Perché non riesco a fare questa parte super semplice? Perché non ve lo Marco? Marco è primo? No ho preso una palla da bullying Vedi? Ti lamenti sempre del povero De Marco? Bel cane non sei De Marco Non sei De Marco Ma io vi ammazzo a tutti Chi è De Marco? No sei tu che c'è Ma anche io Marco ci demoli tutti Va bene Va bene No No Non ci credo Sì Marci Ti sei sbattuto Non ci credo Sei un campioncino Raga ma quanto dura sta gara? Troppo Tu l'hai fatta Steph? Forse sì Ti levi? No dai Marci No Steph Sei un disastro Marco mi è venuto addosso e caduto lui Allora Va bene Il pezzo finale raga è di una difficoltà Proprio Sto sempre sbagliando Ma no Tu sei fatta? Sì tu sì No Se lo merita Ha vinto Qualunque cosa sia successo se lo merita raga Ho capito Ha vinto Ha vinto Se ne esploso Sì si è vinto Sì si è esploso alla fine si esplode qua Ho preso una mina Ma io quindi non finirò? No Senza Devevo tenere le tradizioni Esatto Non l'avete visto una gara inutile dovevo sbagliare le copartite E quindi Stiamo tutti Calmi No Ci siamo riscaldati No Guarda come picco il buchino lì No ragazzi no Sì raga Gara con le moto La prima nella nostra vita tutti assieme Chi è che non è partito ma ha fatto spandare Bacch Oggi il target non è più Steph ma è Fere va bene Pesante Questa era veramente pesante Unespector Guarda che carina la gara Sì si Fere Sì si Ma io sto andando avanti È carina Non so No perché altra me Non so voi ma a me sta mettendo ansia Sì ma è sempre dritto Ok Cioè non ho mai avuto che tanta ansia Non riesco neanche a prenderti la scia considera A me Mark sta superando Perché vai più veloce di me Perché la scia Io con Mark non voglio più giocare Mark è scandaloso Mark è proprio una brutta persona Ogni volta che sei a fianco a me o che dici qualcosa io cado No ma guarda eh Dovrei fare una compilation di tutte le volte che Mark sta vicino a me o che parla e che io cado Mark è scandaloso È scandaloso Insulti pesanti comunque Mark ci vai a picchiarlo Cioè è un gioco per famiglie Andrei però Certe cose secondo me non do Markì Che rischio Markì Sei caduto? No Eh? Io sì Sei caduto? Sì È caduto Veramente? Eh sì Ma era facilissimo Steph E quindi? Ho scusato anch'io Che pera Siete caduti tu? Che pera Ma tu sei Che pera Che pera Ti dicono alle elementari Che pera Eh stai zitto Senti quell'altro stupido che ride Chiantati da qualche parte Stai sentendo più del dovuto Markì Stai schiantato Anche per me No raga sto pezzo è bellissimo Devo fare F1 assolutamente Premi F1 Premi F1 Campioncino E premi F1 dai No Sono caduto No io non lo premo Steph Bello Premi F1 Il premio 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 Nooo Ho sbagliato strada Che son forte Eh perché Cioè non stai sbagliando strada È perché sei bravo Markì No ragazzi Grazie raga Io sono serio È più bravo degli altri Ma che diamine è sta cosa È proprio più bravo Occhio Occhio alla gente ragazze Ti cambio moto? Lo vedo ancora Però quando può fare incidente lui Ma non è che cadi dalla moto Una scivolatina a terra No 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 Così Beh Giusto per fare un po' Ma che pulizia Sì Cioè giusto per divertirci Tutto perfetto ha fatto Comunque è una vittoria che merita Grazie Ragazzi Steph è onesto Io l'ho detto Steph è onesto Perché ogni volta che io vinco Viene onesto Scusate No perché tu Tu sei disonesto Aia Ho finito Primo Primo Meglio a parti Che non arrivati Tutti avete finito Questo sarà il mio prossimo tatuaggio Terzo o quarto? Terzo Ah peccato Mi piace come tatuaggio Non copiate Non copiate Ma non mi raccomando Io ho già tatuato il gioco per famiglia Vabbè No Fede si è tatuata Questa l'abbiamo già fatta Passiamo alle auto signori Siete pronti? Prontissimi Signor capitano Ma non sono il tuo capitano Fatti Non lo sono Devo fare la partenza giusta La sento Eccola Guardala Bella eh Complimenti Eh già Anche io l'ho fatta Ok Guarda che c'è una giara Steph Mi hai fatto sbandare Ma non ti ho fatto nienti Sì eri mezzo Lento Brutto Puzzolente Raga non so più usare le auto Mi sono abituato a la moto Marco voleva buttarmi fuori Non è vero Mi sono solo appoggiato Fere Aiuto No Fere Te lo beriti Aghia Te lo beriti Aghia No perché si No raga ma che diamine Marci cosa è successo? Non lo so è tutto stranissimo Guarda eh Guarda eh Guarda eh Guarda eh E poi si rilogo a quarto Ma ragazzi Raga ho provato a fare Need for speed Mi sono schiantato Bravo Ma non mi leghi ci giochi eh Manco così impari No è peggio Ok Ma dai Ciao Steph No ragazzi ma io sono lontano Guardate com'è brutto Cioè quando lui è primo Il mondo piava Ragazzi No 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 Fere basta Ho pinto la canina No guarda che Fere Oggi impazzita Non siamo più amici Perché stiamo andando qui In mezzo al nulla raga Perché c'è il fumo blu Ma dove sono le cose belle Smar che è incidentato comunque Ho incidentato ma sono il primo Eh sì ma Schia Ma ragazzi ma non ci sto capendo niente Io non ci sto capendo niente Non lo so raga C'è uno schifoso dietro di me Ma quanto sono lontano No 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 Steph No 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 Steph Ma cosa sta succedendo ragazzi Sono confuso Arrivo arrivo Steph Adesso serve il secondo colpo Quello di Grazia Va bene Lo vedo lo vedo Deve ritirarsi dalla gara Sì sì Dove sto andando Ma non lo so Buon viaggio Steph Raga sta gara è bellissima No sono volato io Comunque sono quasi sicura Che anche questa abbiamo già fatto No Non puoi dirlo Fere Raga Tette cose non si dicono 8 tutte uguali raga Ma che cavolo è successo Siamo fatta un'altra cosa Vittoria Ha vinto quell'altro Ma ditemi voi Io comunque ho visto Tanti bei colori accesi Proprio per famiglie Sì Per tutto Sì E neanche devi farla con la correccia È magico questo gioco È magico È bello È rilassante Fere finisce anche questa gara Fere ma la finisce 2 su 2 No la finisco Fere veloce ti faccio No non è vero Non è vero vai 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 È stato che ti colpirebbe È stato cattivo all'inizio È stato cattivo Però è stato cattissimo è oggi Meglio quarti che non arrivati Ragazzi Primo Che bello è molto Che ha Sì era il mio tatuaggio di prima Capisci Comunque Prima Sessione Di torneo andato Con una gara inutile Che purtroppo Me l'ero vinto Era di riscaldamento Va bene Ci siamo riscaldati Siamo stati tutti molto bravi Preparatevi a questo torneo Di insulti Perché non è un torneo di gare Speriamo che vi piacerà Sotto come sempre Come gli altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao